Fervono i preparativi per la inaugurazione istituzionale di Pesaro Capitale della Cultura 2024 alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mancano infatti dieci giorni al maxievento La Vitri Frigo Arena che chiama l'adunata alla città per il 20 gennaio con cerimonia inaugurale a partire dalle 11 di mattina. Mattarella manca una passerella di ospiti a confezionare un evento gratuito con tagliandi nominativi e obbligatori ancora disponibili sul circuito Viva Ticket alla biglietteria del teatro Rossini o al tipico tips di Via Rossini. Ovviamente avere puntato ad avere il Presidente della Repubblica in un ambiente così grande con un'affluenza di pubblico sia delle scuole che di chi si sta iscrivendo talmente alta diciamo a livello organizzativo sta stressando molto la macchina infatti voglio ringraziare tutti quelli che a tutti i livelli ci stanno lavorando ma soprattutto anche chi da Pesaro dalla provincia, dalla regione, dal resto d'Italia e anche dall'estero tanti ambasciatori compresi hanno già richiesto e sono già prontati per arrivare. Saremo sicuramente migliaia il tetto massimo penso raggiungibile sarà di 8 mila, molto probabilmente lo raggiungeremo e ci sono alcuni spazi ancora per prontare chiaramente per motivi di riempimento e di posti noi li abbiamo messi tutti a disposizione subito. Questa mattina si è aperta un'altra finestra per altri due settori, cercheremo giorno per giorno, in modo che una piccola finestra prontabile ci sia sempre, un equilibrio da creare anche per l'ospital delle scuole perché avremo almeno 2.000 studenti quindi insomma è tutto un equilibrio che stiamo cercando di creare ma sicuramente testimonia il fatto che il capo dello Stato innanzitutto è unito al messaggio forte della Capitale Italiana e veramente tanto atteso dal nostro territorio e oltre. Non solo l'evento mattutino, da pomeriggio a notte il 20 gennaio di Pesaro Capitale della Cultura 2024 diventa una lunga festa in musica. Alle 17 la Vitri Frigoreno ospiterà il concerto gratuito di Max Gazzè così come gratuitamente si ballerà dalle 20 con la performance dell'orchestra Casa Dei. Alle 23.30 si prosegue con Rosa Chemical e l'evento Once a Year a pagamento.